Sono una pezza di quartiere, ci stanziò la matta, ma quanti spesso è più vigente, ma che calore, qui non ho niente. Signorino, posso qui guidare, ma venga qui, a guardare, vuoi parlare di rinnovazione, a me il suo padre c'è un po' di tensione. La singla biazza è una persona che non va bene, che... No, 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 no. Comunque il flessimo, eh? Il flessimo, la quale è il consiglio che mi ha, come tu dici. Buonasera a tutti, è un piacere a parlarvi e a vederli tutti felici in giunico. Tantissimi auguri per i 70 anni della liberazione da tutto il cuore, amici. Mi chiamo Muhammad Il-Mai. Sono un occupante insieme a 77 famiglie dell'ex Telecom. Dove tra l'altro è nato mio figlio Yahya. E la maggior parte delle assistenze sociali non accettano questi, che lui è nato dentro, proprio dentro l'ex Telecom, che non volevano darmi anche possibilità di fare la residenza lì. E poi mi hanno detto che praticamente tengono i miei figli e mia moglie da una parte e vogliono che io venga a trovare ogni tanto queste cose qua che non vanno bene per qualsiasi essere romano. Io e la mia famiglia ci siamo trovati a occupare, perché il proprietario di casa ci ha sfrattato buttandoci tutto per la strada. E da quando... ... ...